Dio ha sconfitto la morte. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Il Signore oggi ci parlerà attraverso il Vangelo secondo Marco, capitolo 12, dal 18 al 27. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo, Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora l'ha preso il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente, e nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù, Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore». Amè. Cari amici, oggi abbiamo ascoltato una situazione molto particolare, dove i Sadducei, una setta, una branchia del popolo di Israele, che non credevano nella risurrezione e soprattutto in alcuni aspetti spirituali della fede ebraica, cercano di porre a Gesù un'interrogazione, ma soprattutto una situazione molto particolare, complessa, per vedere la sua risposta. Ma è una situazione talmente irreale, immaginaria, perché loro non credono a questo, non credono nella risurrezione, ma vogliono trarre in inganno Gesù. Gesù risponde dicendo «Attenzione, siete in errore». Perché? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. A me oggi non importa molto spiegarvi qual è il senso anche di ciò che loro chiedono, di questi mariti che hanno avuto questa donna come moglie, perché la questione è diversa, proprio perché Gesù dice «La cosa più importante è conoscere le scritture e conoscere la potenza di Dio». Anche noi cristiani abbiamo molte domande che vorremmo fare a Dio, che vorremmo fare agli uomini di fede, alla Chiesa, ma a volte le facciamo soltanto per curiosità. L'origine dell'universo, l'evoluzione, il mistero del male, il mistero della libertà, perché Dio non interviene, perché l'uomo è così peccatore. Tante situazioni, tante domande noi abbiamo. Gesù risponde in un modo molto semplice. Quando voi non conoscete le scritture, la parola di Dio e la sua potenza, cadiamo nell'errore. Giudichiamo Dio in un modo, pensiamo ad un'immagine di Dio che è un'immagine che ci siamo creati noi. Oggi Gesù dice e ci spiega e ci incoraggia a conoscere la sua parola. Ricordiamoci Girolamo, San Girolamo, che a Betlemme per anni ha tradotto le sacre scritture della lingua originale al latino perché si potesse conoscere la famosa volgata e a un certo punto della sua vita dice l'ignoranza delle scritture e ignoranza di Cristo. Quanti cristiani non conoscono la parola di Dio. Eppure si fanno idee di Dio in un modo talmente sbagliato talmente sbagliato che si cade nell'errore è importante oggi carissimi amici entrare nella sua parola ecco perché abbiamo iniziato già ieri sera questo bellissimo seminario online sui Vangeli per conoscere Gesù attraverso questi testimoni queste persone gli evangelisti le prime comunità altrimenti ci facciamo un'idea di Dio che è sballata. Poi Gesù dice non è il Dio dei morti ma dei viventi e Gesù ce lo ha dimostrato perché sul legno della croce lui ha sconfitto la morte è risorto il terzo giorno quindi c'è una potenza eccola qui la potenza di Dio e noi molto spesso prendiamo la fede come quell'accessorio che un uomo può avere o può non avere tanto la vita va avanti lo stesso ma se ci facciamo la nostra pregherina del mattino e poi viviamo così la sera se ci ricordiamo di Dio ma tutto dipende da noi non è così il cristiano nel suo cuore ha accolto Gesù come proprio Signore ha iniziato a ruotare attorno a Lui e significa che crede che Dio è potente che è il Dio dell'impossibile allora oggi alla luce di questa parola e di ciò che Gesù stesso ci ha detto chiediamo lo Spirito Santo per camminare in Lui pieni o Spirito Santo tocca il nostro cuore tocca la nostra mente la nostra vita concedici oggi di fare esperienza che questa parola mi dona di conoscere sempre di più Dio che questa parola mi fa fare esperienza della potenza di Dio Spirito Santo allontana da me le superficialità tutti quei pregiudizi e preconcetti che io ho accolto dentro di me e mi sono creato da solo voglio camminare in questa parola nella verità e camminare soprattutto nel pieno abbandono a Dio a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli ame carissimi amici lo slogan è Dio ha sconfitto la morte viviamo oggi come vincitori in Cristo c'è una vita soprannaturale nella nostra vita naturale lasciamo che lo Spirito Santo ci convinca che Lui è con noi Lui è al nostro fianco e ha sconfitto ogni male grazie per avermi accolto ci vediamo domani ciao parlami signore ti ascolto parla signore perché il tuo servo ascolta parlami signore ti ascolto signore